Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG Sein. In primo piano c'è la cronaca con un incidente avvenuto questa mattina a Vasto su una nave cisterna. Un incendio che si è sviluppato al suo interno e c'è da registrare la morte di un uomo di 24 anni di origine russa, come del resto è russa la stessa nave cisterna che era partita dal porto di Vasto intorno alle ore 8.30 ma poi ha fatto subito ritorno nello scalo Vastese, subito dopo l'accensione di questo rogo. Probabilmente tra le prime ipotesi che vengono fatte perché le notizie sono ancora frammentarie, stanno indagando gli uomini della capitaneria di Porto ma si parla di esalazioni all'interno della cisterna, esalazioni di gas. Un uomo appunto è morto di 24 anni di nazionalità russa, altri due uomini sono rimasti feriti. Uno di questi è ricoverato all'ospedale San Pio di Pietralcina di Vasto, mentre l'altro uomo è stato trasportato in eleambulanza all'ospedale di Pescara. Poi nelle prossime edizioni del TG6 altri aggiornamenti su questo fatto. Proseguiamo sempre con la cronaca, 70 tonnellate di mangimi e 22 di carne mal conservate sono state sequestrate dai carabinieri del NAS in un'operazione di controllo della filiera alimentare. Vediamo. 70 tonnellate di mangimi e 22 tonnellate di carne per un valore commerciale di circa 800 mila euro sono state sequestrate dai carabinieri del NAS di Pescara nell'ambito di una serie di controlli ed imprese ambruzzesi specializzate nella produzione di mangimi, poi estesi anche ad industrie di macellazione e commercializzazione di carne. Nei mangimi ficci sono state riscontrate irregolarità riguardanti locali fatiscenti, gravi carenze igienico-sanitarie, ambienti di lavoro infestati da insetti e topi con tanto di escrementi e lacune in tema di rintracciabilità. Con l'ausilio tecnico del personale del servizio veterinario delle ASLE competenti sono state sospese le attività di cinque grandi mangimi ficci nelle province di Pescara, Chieti e Teramo. Le 70 tonnellate di mangimi sottoposte a sequestro sanitario sono state avviate alla distruzione dall'autorità competente, poiché prive delle informazioni utili alla loro rintracciabilità a garanzia della sicurezza sanitaria. Ispezionate anche quattro industrie di macellazione e commercializzazione di carne nelle province dell'Aquila, di Chieti e di Teramo. In particolare in un'azienda dell'Aquilano, controllata dal NAS assieme al servizio veterinario della locale ASLE, sono state sottoposte a vincolo sanitario 22 tonnellate di carne, bovina, suina, ovina e avicola, congelata con mezzi e procedure non conformi e stoccata peraltro in ambienti non idonei. I titolari delle attività sono stati deferiti alle competenti autorità sanitarie e nei loro confronti sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 15.000 euro. Ancora la cronaca, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara hanno arrestato ieri sera in flagranza di reato, il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso due 44 anni di origine rom, entrambi pluri pregiudicati e domiciliati in via Rio Sparto. Sono stati trovati in possesso di un involucro in cellophane risultato a contenere 104 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina di elevato grado di purezza. Gli investigatori ritengono che la sostanza fosse destinata a successivo confezionamento in dosi per la cessione a numerosi giovani tossicodipendenti. Come per annunciato, e cambiamo pagina, come per annunciato alcuni giorni fa il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha illustrato stamani due proposte di legge sulla nuova Pescara, il progetto che prevede l'accorpamento di tre comuni, quelli di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Presidente, oggi lei ha illustrato due proposte per la grande Pescara, di cosa si tratta? Sono due proposte che puntano ad un prodotto di qualità indiscutibile, che però sottoponiamo all'arricchimento di ciascuno, sia presente in Consiglio regionale, sia fuori nel mondo degli interessi. Poiché far nascere una nuova città non è un gioco e lo vogliamo fare prevedendo e simulando tutte le difficoltà, arrivando anche a contemplare un progetto ed un programma di fusione che allinei i linguaggi contabilistici delle amministrazioni preesistenti, le consistenze contrattuali in maniera tale che non ci sia sorpresa distruttiva strada facendo. Ci siamo presi un lasso di tempo per essere sicuri del prodotto finale. Abbiamo anche dato luogo ad un'assemblea costitutiva che chiama in causa i consiglieri comunali esistenti, ciascuno con lo stesso potere di voto, senza differenza, in maniera equitativa, poiché vogliamo fare anche un lavoro che entri all'interno delle viscere di ogni amministrazione. È possibile stimare l'iter a livello di tempi? Io prevedo che ci vorranno dai 18 ai 24 mesi per fare un lavoro di qualità. Naturalmente da domani cominceremo a macerare, a discutere nel merito l'articolato che, ripeto, non è un articolato della Germania per le spese di guerra e aperto ad ogni arricchimento. L'importante è che alla fine sia un prodotto che faccia funzionare di più questa città-territorio più grande a favore delle imprese, dei cittadini e delle articolazioni degli spazi reali dei territori. Voglio essere sicuro che alla fine noi faremo più uno e non meno uno. Mi dichiaro disponibile a ogni forma di penetrazione tematica. Con il respingimento dell'istanza di coltivazione pubblicata sul bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle geo-risorse, si decreta la morte di Ombrina di Ferro. A margine di questa conferenza stampa, il presidente della regione D'Alfonso non ha trattenuto la sua soddisfazione per la conclusione della vicenda per la quale si è speso personalmente. Presentato oggi dalla Saga il nuovo collegamento fra Pescara e Spalato in idrovolante. Non è ancora passata la bufera Ryanair sull'aeroporto d'Abruzzo e sulla Saga, ma la società che gestisce lo scalo regionale cerca di reagire con un nuovo collegamento con la trasponda dell'Adriatico e precisamente con il porto di Spalato, avviato in collaborazione con la European Coastal Airlines. Il servizio sarà operato con un idrovolante Twin Otter 300-6 con partenza da Spalato alle ore 8.30. La durata del volo verso Pescara davvero particolare è di 59 minuti. La ripartenza dall'aeroporto d'Abruzzo invece è prevista alle 10.30 con arrivo sull'acqua nel porto Corato di Spalato alle 11.29. I voli da Pescara ci saranno tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. Non è neanche paragonabile lontanamente quello che rappresenta la Ryanair rispetto a quello di cui stiamo rappresentando oggi. Questo è un servizio aggiuntivo per quanto riguarda la Ryanair, come è noto siamo al lavoro, per trovare le soluzioni legislative conformi a quanto previsto dal legislatore europeo e dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, cioè l'impossibilità di finanziare entro determinati termini le compagnie, qualunque se siano, e siamo convinti che con il nostro piano industriale che il Consiglio di Amministrazione Saga ha approvato si possa comunque uscire. Siamo al lavoro, siamo in trattativa e speriamo che questa trattativa porti a un risultato positivo nel rispetto della legge. Questo volo potrà essere usato non solo dai turisti ma anche dalle persone che hanno necessità lavorative per tutto l'anno e non solo in estate. In inverno infatti ci sarà un volo al giorno mentre in estate ce ne saranno due. Ora siamo partiti con Spalato ma collegheremo anche altre zone dei Balcani direttamente a Pescara. Ed ora la politica, 18 mesi di incompiute per il centrodestra giudizio negativo al comune di Pescara in un anno e mezzo di giunta Alessandrini. Guerrino Testa, centrodestra critico per i primi 18 mesi di amministrazione Alessandrini. Avete parlato di 18 mesi di incompiute, perché? Il centrodestra è fortemente critico così come la maggioranza della cittadinanza è critica sull'operato di questa amministrazione in centrosinistra che nei primi 18 mesi ha provocato solamente disastri amministrativi, senza andare troppo a ritroso con i tempi ma pensando solo all'ultimo periodo partendo dal discorso dell'aeroporto piuttosto che del porto. Pescara sta cedendo giorno dopo giorno sovranità sull'Adriatico, ad Ancona o anche ad altre città e non c'è quella battaglia politica che l'amministrazione regionale unitamente a quella comunale e provinciale dovrebbero fare per salvaguardare il ruolo principale di pescare nell'Adriatico, così come diciamo che pescare carente sia nelle zone centrali che nelle zone periferiche di manutenzione. Si era detto che questa amministrazione voleva dare un segnale forte con le periferie, invece le periferie sono naturalmente abbandonate. Possiamo spaziare anche per quanto riguarda il discorso del mare, delle ordinanze. Noi riteniamo che 18 mesi di amministrazione sono stati altamente insufficienti, ben sapendo che c'è un problema anche di carenza finanziaria però ci sono pochissime idee e molto confuse. Questa opposizione di centrodestra oltre a fare opposizione responsabile così come è accaduto in questi 18 mesi vuole essere anche ricordata per delle proposte e noi stiamo incominciando a fare, faremo delle proposte per migliorare le periferie, per sbloccare il porto canale fondamentale per noi, fare una battaglia insieme sull'aeroporto, cosa che vedo che manca attualmente una strategia e quindi dare quello slancio che Pescara merita. Non si placano le polemiche per la nomina del nuovo direttore dell'ASL di Avezzano sul Mona L'Aquila da parte di chi lo vorrebbe espressione del territorio. Alta tensione politica intorno alla nomina del nuovo direttore generale dell'ASL di Avezzano sul Mona L'Aquila che prenderà il posto del dimissionario Giancarlo Silberi. Nomina attesa per la prossima settimana. A scontrarsi due fronti politici. Da una parte in prima linea il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e il presidente della regione Luciano D'Alfonso uniti nel ritenere che occorre un manager, non un medico e che soprattutto poco o nulla conta la provenienza territoriale. Sarebbe uno brave basta e non sta scritto da nessuna parte che sia aquilano, argomentano. Non possono che concordare i rappresentanti politici di Sul Mona, Avezzano e di altri comuni della provincia. Impostazione duramente contestata da quello che è stato ribattezzato invece il fronte dell'aquilanità ovvero il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, il capogruppo di Forza Italia al comune dell'Aquila Guido Liris, l'ex vicepresidente del consiglio regionale Giorgio De Matteis che invocano una personalità interna al territorio per professionalità e provenienza. Non è possibile nominare chi viene da fuori quando altrove si è nominato un interno, tuona Pietrucci ricordando i casi di Chieti, Termo e Pescara per le cui Asle la scelta dei nuovi manager è ricaduta tra professionisti interni e rispettivi ospedali. Gli stranieri che il fronte dell'aquilanità guarda in Cagnesco, dati invece per favoriti nella corsa al vertice dell'Asle, sono Enrico Del Baglivo, 65enne romano in passato consulente dell'Asle di Avezzano e Antonello Maraldo, direttore provinciale INAIL, Teramo l'Aquila. Gli aquilani, pretendenti al posto, sono invece il primario del reparto di cardiologia del San Salvatore, Sabrina Cicogna, la direttrice del dipartimento di medicina generale, Patrizia Masciovecchio e il primario di malattie infettive, Alessandro Grimaldi. Vada come vada, quello del direttore dell'Asle dell'Aquila sarà comunque un incarico a tempo. Il decreto Lorenzini impone infatti la razionalizzazione del sistema sanitario regionale che porterà alla Asle unica ed è una decisa riduzione di poltroni in carichi di vertice all'Aquila come altrove. Sarà pubblicato da lunedì prossimo l'avviso pubblico per la selezione di personale altamente qualificato per l'assistenza tecnica ai bandi PORFESR. Il bando scadrà il prossimo 19 febbraio. Presidente De Monte, oggi avete illustrato un bando per reperire, per selezionare figura di altissima professionalità di assistenza tecnica per il PORFESR. Sì, con questo bando Abruzzo sviluppo su indicazione quindi del Presidente della Regione Abruzzo si è voluto dare la necessità di reperire figure altamente professionali. Quindi non premiare in maniera automatica chi avesse già svolto questa attività ma premiare il contenuto dell'esperienza professionale. La necessità quindi di avere figure che hanno già lavorato nell'ambito di procedure complesse, di programmi complessi di valenza nazionale e comunitaria che possono quindi in qualche modo dare valore aggiunto quindi alla Regione Abruzzo. Ecco, il bando si aprirà lunedì prossimo e poi ci sarà tempo fino al 19 per presentare domande. Verrà pubblicato all'8 fino al 19, la possibilità quindi di presentare domande. Ci sarà poi una commissione che valuterà i titoli, l'esperienza quindi maturata nell'ambito universitario e poi l'esperienza e infine con un colloquio all'interno del quale poi verranno prodotte le referenze scritte che attestano quindi anche quindi non solo il numero di anni di esperienza ma proprio il contenuto dell'esperienza. E qual è la funzione di queste figure professionali? Cosa dovranno fare? Queste figure professionali vanno ad affiancare oggi la struttura regionale nella quindi predisposizione quindi dei bandi che nei prossimi 7 anni, 8 anni la Regione quindi andrà a fare nell'ambito dei 5 domini che rappresentano poi il contenuto del Poffers. Altri 9 milioni di euro saranno disponibili per le aziende abruzzesi grazie alla riapertura del bando sul microcredito, un bando disponibile attraverso fondi del Fondo Sociale Europeo. L'aria apertura del bando del microcredito dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è una ulteriore buona opportunità per le tante aziende abruzzesi che l'avevano sollecitata. Una dotazione finanziaria pari a 9 milioni di euro quella messa a disposizione da questo avviso. Per le persone fisiche l'importo del contributo oscilla da un minimo di 5 mila euro a un massimo di 10 mila. Per le persone giuridiche il minimo è 10 mila euro, il massimo 25 mila euro. Il bando è già pubblicato sul sito del soggetto gestore Abruzzo Sviluppo. L'assessore regionale Sclocco invita i soggetti interessati a presentare in stanza al più presto. Il fattore tempo è fondamentale, le domande possono essere inoltrate a partire dal 9 marzo. 9 milioni di euro per uno strumento che il territorio e anche e soprattutto le donne, devo dire, continuano a chiederci. Uno strumento che consentirà, così come già è successo, di aprire nuove imprese e di aiutare le imprese già costituite, le giovanissime imprese già costituite. Il bando è già pubblicato. Scadrà il 17 marzo. Mi raccomando, come sempre, la tempestività perché andremo ad esaminare le domande in ordine di arrivo. Quindi è importante arrivare il primo giorno, il secondo giorno e il terzo giorno, anche se 9 milioni di euro daranno una risposta congrua al numero di domande. L'istituzione di una card prepagata da utilizzare nei supermercati da parte dei meno abbienti del comune di Pescara. Questa è la proposta dei consiglieri della lista Teodoro per Pescara. È un'iniziativa studiata dal sottoscritto e dal capogruppo Teodoro che porremmo in visione all'interno del bilancio di previsione che dovrà essere ovviamente approvato nei prossimi mesi in Consiglio Comunale. Destineremo una sorma che andrà dalle 50 alle 100 mila euro, un apposito capitolo di bilancio, per le famiglie bisognose. E' una prepagata che sarà ovviamente di 50 euro, verrà messa a disposizione ai servizi sociali. Per cui la politica esce di scena una volta tanto e sarà data ai servizi sociali e nello specifico agli assistenti sociali che lavorano in maniera implacabile quotidianamente con queste persone bisognose e saranno proprio gli stessi assistenti sociali a decidere a chi dare questa carta o no a seconda delle esigenze particolari della famiglia. Quindi è un ulteriore tassello che va nel senso delle persone bisognose e che va nel senso dell'aiuto della povera gente. Quando si tratta delle persone bisognose e della povera gente la politica deve fare un passo indietro e si deve concentrare definitivamente e per sempre per le esigenze delle persone bisognose. Quando si stava bene, in Italia si stava bene, l'assessorato delle politiche sociali era un assessorato che veniva dato a un partito di minore entità all'interno di una maggioranza. Oggi invece riteniamo che l'assessorato delle politiche sociali sia un assessorato importante e fondamentale per i comuni che si trovano in prima linea ad affrontare le esigenze della povera gente. E devo dire, purtroppo a me, che in quest'anno e mezzo di legislatura l'assessore non è che abbia fatto modo tanto per creare dei progetti che vado nell'aiuto delle persone. Restiamo a Pescara dove questa mattina è stata presentata un evento, una manifestazione o meglio un'iniziativa di rifondazione comunista una cassetta di arance per Cobane. Questo è il nome agrumi che provengono dalla Calabria e che simboleggiano il no allo sfruttamento del lavoro. Sono in vendita a Pescara le arance provenienti da piccoli produttori biologici calabresi che Rifondazione Comunista e Giovani Comunisti di Pescara mettono sul mercato per sostenere chi non ricorre al lavoro nero e non si piega alle mafie. Il ricavato sarà destinato alla ricostruzione della città curda di Cobane, liberata un anno fa dall'assedio dell'Isis. Per partecipare all'iniziativa è possibile prenotare la propria cassetta da 5 kg al costo di 8 euro nella sede pescarese di Rifondazione Comunista in via tedesco numero 8, Mantini e Di Sante. Queste arance solidari sono già state prenotate e verranno distribuite a un circuito di associazioni, attivisti, semplici cittadini, circoli di rifondazione nel nostro territorio. E con questo vogliamo dare una risposta concreta sia alla crisi sia alle politiche antiliberiste che schiacciano i piccoli produttori e producono sfruttamento e disperazione nelle nostre campagne ogni anno. Questa iniziativa è ricavata per la ricostruzione di Cobane, la città liberata dall'Isis e noi continuiamo il nostro impegno a favore del popolo kurdo che viene martoriato dal governo turco di Erdogan e il prossimo 21 febbraio a Pescara avremo un compagno kurdo Garip Dunen che appunto ci racconterà quello che succede ogni giorno nel Kurdistan turco e anche nel Rojava. Il comune di Pescara è attiva, hanno presentato un progetto per la sensibilizzazione dei ragazzi allo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assessore Marcheggiani, oggi presentate un importante progetto di educazione ambientale rivolto ai ragazzi delle scuole di Pescara, un progetto importante perché riguarda una particolare categoria di rifiuti. I rifiuti RAE, sì, è un progetto nazionale, partecipano 50 città in Italia, tra cui anche Pescara. Il progetto inizia a livello nazionale il 15 del mese di febbraio, durerà tre settimane e coinvolge le scuole della città che hanno voluto aderire per ben tre settimane. È un progetto di educazione ambientale e nello stesso tempo di grande informazione ed è rivolto soprattutto ai bambini della quarta e quinta elementare e delle scuole medie proprio perché loro sono i più grandi consumatori di questi prodotti elettrici ed elettronici che sono i RAE ed è un grande problema soprattutto nello smaltimento di questi rifiuti e purtroppo Pescara non è messa bene, è messa con un bassissimo rapporto di raccolta differenziata come nell'Italia meridionale stanno meglio le regioni del centro e le regioni del nord. E ora è il momento di aprire la pagina dello sport, lo facciamo attraverso la schermata del turno di Serie B, un turno che sta per iniziare questa sera con l'anticipo davvero importante di alta classifica tra Bari e Crotone con il Pescara che è uno spettatore direttamente interessato proprio dalla lotta al vertice. Questa sera Bari-Crotone, poi i due posticipi saranno domenica alle 17.30 a Modena-Cesena e poi lunedì sera alle 20.30 a Trapani-Como. Le gare di domani ore 15 sono Ascoli-Latina, Cagliari-Virtus-Entella, Vivorno-Ternana, Novara-Vellino, Perugia-Spezia, Provercelli-Brescia, Saernitana-Pescara e Vicenza-Virtus-Lanciano. Intanto a proposito della gara di Salerno, notizia già dei giorni scorsi, come sia stata impossibilitata, sia stata vietata la trasferta ai tifosi del Pescara. Per ovviare a questo stato delle cose la società si è attivata per predisporre un maxischermo per poter far vedere la partita ai tifosi che non potranno andare in trasferta nel piazzale adiacente l'antistadio. Sono queste le ore che definiranno evidentemente l'ok. La società è all'opera per ottenere tutti i permessi al riguardo. L'auspicio è che nelle prossime ore possa arrivare l'ok affinché la partita possa essere trasmessa. Lo ripetiamo sul maxischermo nel piazzale dell'antistadio, domani chiaramente alle ore 15. Venendo all'aspetto più tecnico, nella Saernitana ha squalificato Gabionetta. Nel tridente d'attacco ci dovrebbe essere l'ex Terramano Donnarumma con Coda e Oikonomidis. A centrocampo tre persone sono previste nel modulo del neotecnico Menichini che torna ad allenare la Saernitana dopo averla guidata alla promozione lo scorso anno. C'è Oger da un lato, Zito dall'altra parte e in mezzo al campo un ballottaggio tra il brasiliano Ronaldo che era un obiettivo di mercato del Pescara e Pestrin. In difesa i quattro in linea dovrebbero essere Ceccarelli, Bernardini, Emperor e Franco. Sul fronte Pescara non dovrebbero esserci grandi novità nell'undici di formazione se non l'inserimento di uno dei nuovi, ovvero Antonio Mazzotta che giocherà a sinistra con Zampano che tornerà a destra, coppia di centrali Zuparic-Fornasier data l'assenza oltre che di Crescenzi anche di Campagnaro. Solito ballottaggio poi in mediana tra Torreira e Mandragora. Oggi prima della partenza in direzione Salerno ha parlato come sempre dopo la rifinitura il tecnico Massimo Oddo. I singoli si mettono a disposizione del gruppo, poi se fanno bene è perché vengono sostenuti da un gruppo forte e quindi sanno perfettamente tutti dal primo all'ultimo che ogni settimana devono lavorare per ritagliarsi uno spazio importante, una maglia titolare. Sicuramente ci sarà chi giocherà di più, chi giocherà di meno, ma questa è la legge del calcio. Poi essere arrabbiati perché non si gioca e se vogliamo è anche giusto, nel senso che vuol dire che un giocatore ci tiene, però ovviamente questa arrabbiatura deve essere poi riversata sul campo in allenamento per dimostrare che magari il mister ha sbagliato. La nostra partita deve essere sempre la stessa sia in casa che fuori. Andiamo a Salerno per vincere, questa deve essere la nostra mentalità. Lo è sempre stata, provare a vincere. Non è facile, non è facile in ogni campo e non è facile contro chiunque squadra. È una partita dura, durissima, perché comunque troviamo una squadra che ha cambiato allenatore, quindi l'atteggiamento nei confronti della squadra da parte del pubblico sicuramente sarà diverso. Ci sarà un supporto, un appoggio totale, credo, e in condizioni di difficoltà di classifica, però noi non possiamo farci condizionare da una classifica deficitaria. Sappiamo di incontrare una partita molto molto difficile su un campo ostico, però questo non deve cambiare il nostro atteggiamento che deve essere sempre lo stesso. Noi andiamo su ogni campo per provare a vincere, poi se gli altri saranno più bravi gli daremo la mano. Noi siamo sereni, siamo tranquilli, c'è tanto entusiasmo, non c'è euforia, nel senso che siamo sempre con i piedi per terra. Sappiamo che è impensabile mantenere questo passo fino alla fine, ce lo auguriamo, qualche passo falso ci può stare, ma come ci può stare per le altre? Dobbiamo essere bravi a averne di meno delle altre. E per la Virtus Lanciano sarà un sabato particolare, perché domani alle 15 almenti di Vicenza ci sarà l'esordio in panchina di Primo Maragliulo, il tecnico della primavera promosso con Deroga in prima squadra, dopo l'esonero di Roberto D'Aversa. Nella lista dei convocati di ramata dallo stesso Maragliulo ci sono il recuperato Boldor e poi i nuovi Rocca e Giandonato per loro prima convocazione. Non convocati invece Bacinovic, dopo i problemi avuti anche in settimana, fuori causa anche i nuovi Bergamini e Di Nicola, mentre non ce l'ha fatta l'esterno salviato a recuperare, quindi anche lui resta a Lanciano. Ieri ha parlato anche il DS Luca Leone, dopo un silenzio piuttosto lungo, proprio nella conferenza di presentazione di Maragliulo. Ascoltiamolo. L'esonero di Roberto D'Aversa per noi è stato duro da ingoiare, per me personalmente perché in questi otto anni sei insieme a Roberto sono stati sei anni straordinari e io ci tenevo a ringraziare Roberto e come uomo per quello che ci ha dato a tutti e come professionista e quindi come capitano di questa squadra della vittoria del campionato, primo anno di Serie B, insieme a me e l'anno che ha smesso come collaboratore e da allenatore e io voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. Per me era doveroso, come è doveroso ringraziare tutti i ragazzi che sono stati otto anni per la Virtus Lanciano, che hanno dato quello che hanno dato, voi sapete che non c'è bisogno che lo ripeta, li ho ringraziati tante volte, non smetterò mai di ringraziarli. Oggi sono qua a presentare il primo panagliulo, che per me penso sia la scelta migliore, non nego che ho provato a far cambiare idea la società, questo lo sa anche prima, glielo ho detto martedì prima che venisse a fare il primo allenamento, perché io sono una persona coerente, leale e onesta, anzi colgo l'occasione anche per ringraziare il mio padre. Vorrei che riacquistiamo un po' tutti un po' di serenità, quello che ci siamo detti con la società, con Primo, con i ragazzi, ripeto, voglio vedere una squadra che vada in campo e che si diverte, ovviamente si deve divertire. Se lanciamo le trocede in Serie B e in Serie C, Lega Pro, non deve essere una tragedia, non deve essere una tragedia, Noi dobbiamo, quello che dobbiamo pensare è che Lanciano deve continuare a fare professionismo, che è la cosa più importante, perché si può retrocedere e si può ricominciare. E a proposito di Vicenza, prossimo avversario della Virtus Lanciano, tornano a disposizione dopo la squalifica il difensore Sampirisi e l'attaccante Ebagua, a disposizione anche i nuovi innesti arrivati nelle ultime ore di mercato, il difensore Ligi e il centrocampista Signori, invece non faranno parte della gara, oltre al lungodegente Manfredini, anche i centrocampisti Urso e Pinato, quest'ultimo è un ex, e l'attaccante esterno Galano. E ora scendiamo in Lega Pro, vediamo anche in questo caso la schermata di un turno che si svilupperà nel giro di due giorni, anzi, a dire la verità, di tre giorni, da sabato a lunedì, perché domani, vi dico proprio in ordine di disputa della partita, si parte con l'Aquila Ancona al Fattori, ore 14, alle 14.30 Sant'Arcangelo Pistoiese, alle 15 Maceratese Rimini e Savona Teramo, alle 20.30 Siena Lucchese, domenica si giocheranno Lupa Roma, Prato, Pisa Arezzo e Tutto Cuoio Carrarese, poi chiuderà la giornata lunedì alle ore 20 il posticipo tra Spal e Ponte d'Era. Teramo che dunque giocherà domani a Savona, in una gara assolutamente particolare per i noti fatti di questa estate. Tutti a disposizione del tecnico Vincenzo Vivarini, che tra gli altri ha recuperato anche il centrocampista Stefano Amadio. Ascoltiamo come Vivarini presenta questa partita. Non è una partita solita, perché ci sono degli strascichi mentali che ti portano ad avere pensieri diversi, ricordi diversi, quindi di conseguenza non ci può stare un'attenzione esclusivamente alla partita. Però dobbiamo essere molto, molto bravi invece nel rimanere molto fermi e molto concentrati sulle cose da fare in campo. Savona in questo momento qua è la squadra più in forma di questo campionato, perché ha fatto quattro partite, tre vittorie e un pareggio, ed è una squadra che poi le ha fatti contro squadre importanti. Ci vuole una grande prestazione, una grande prestazione come quella di domenica. La preoccupazione che ho è che la squadra non acquisisca quella cosa che in questo momento qua è importante, cioè bisogna esaltarsi, bisogna avere entusiasmo e non bisogna assolutamente deprimersi per un pareggio. Dobbiamo avere un'autostima molto alta e quindi non dobbiamo ascoltare sicuramente chi è che vuole il male del termo. Dobbiamo pensare invece ad avere un'autostima molto alta, dobbiamo continuare a fare le prestazioni che stiamo facendo, perché non abbiamo fatto un passo indietro domenica. Non è un anno sicuramente uguale agli altri, però abbiamo cinque punti in meno dell'anno scorso. Le prime venti partite dell'anno scorso, le prime venti partite di quest'anno, abbiamo cinque punti in meno. L'Aquila invece prepara la gara di domani alle 14 contro l'Ancona, ma ci sono delle novità anche sotto il profilo dell'inchiesta, perché proprio oggi l'Aquila ha comunicato, l'Aquila Calcio ha comunicato, di avere un nuovo difensore nel noto procedimento di Arti Soccer, e sarà l'avvocato Carlo Celani del Foro di Roma. Chiudiamo con un ultimo servizio, dal 22 al 27 febbraio Pineto ospiterà il raduno della Nazionale Paralimpica di ciclismo, con vista su Rio 2016. Stamattina la presentazione a Villa Figliani, ed era presente anche il CT Azzurro Valentini. A quasi un anno dal meeting di ciclismo, riservato ai più piccoli, Pineto si prepara ad abbracciare il raduno della Nazionale Paralimpica Azzurra. Lo farà a fine mese, dal 22 al 27 febbraio. Dunque la città adriatica ancora una volta in prima fila, quando si parla di due ruote. Stavolta accoglierà atleti, che nonostante la disabilità ce l'hanno fatta. Stamattina la presentazione a Villa Figliani, presenti il sindaco Robert Verrocchio, il CT pluridecorato Mario Valentini, il presidente Mauro Marrone, e il team Go Fast di Andrea Di Giuseppe, con uno dei suoi atleti di punta, Pierpaolo Addesi. Durante la sei giorni gli azzurri racconteranno le loro storie alle classi medie del comprensorio del Cerrano, ma soprattutto scalderanno i motori per l'evento di riferimento, le Paralimpiadi di Rio 2016. In vista proprio di questa Olimpia, di questa è una zona buona, perché 15 giorni dopo abbiamo i campionati del mondo in pista a Montichiari, ma questo è un buon trampolino di lancio per poter lavorare, anche perché qui in zona c'è un rettilineo, una strada bellissima per lavorare, proprio per quelle specialità della pista. Mineto adesso ha conosciuto la potenzialità del ciclismo, la potenzialità di promozione turistica del ciclismo, e ha abbracciato pienamente il nostro sport. Quindi io sono contento anche di questo, perché abbiamo dimostrato che il ciclismo, oltre ad essere sport, è anche un veicolo che muove l'economia e il turismo. Quindi sicuramente un segno positivo. Poi ormai con la Nazionale Paralimpica, l'Ambruzzo ha un rapporto di amore, visto che sono diversi anni che vengono da noi, e quest'anno avremo anche questo raduno, quindi sarà un ulteriore momento di vicinanza con questa nazionale, che è una nazionale che porta tantissimi risultati, e devo anche aggiungere, ha il contributo di parecchi ragazzi abruzzesi. Sto entrando nella nostra città, una città che sta avvicinando molto a questa disciplina, al mondo della bici in generale. È un'occasione che ci inorgoglisce, perché comunque aver scelto Pineto per il ritiro è un qualcosa che fa onore a tutta la nostra comunità, ma soprattutto per il messaggio che c'è dietro, non solo dello sport, ma lo sport come momento inclusivo, a prescindere se si è normodotati, se si è disabili. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Vi lascio ora al TG6 l'Aquila. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie per l'attenzione e buona giornata.